Dai 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 dai! Vieni ho visto, va bene? Calma, calma! No! No! All'unico, c'ho l'alto! C'ho l'alto! Lo dietro, il nostro! Davanti, la linea! Dai dai! Visto! Visto! Dai dai dai! Vorrei fare!" Visto! Quattro a due per il Red Bull Visto! Visto! Mi guarda che tu sia la ottana! Visto! Visto! Sto facendo l'aporsica! Vai via! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo riprendiamo, lo riprendiamo! Si metta! Si metta! Dai, metta! Dai! Dai, verso! Dai dai dai, guarda chi c'è, dai tagli! Dai dai, guarda chi c'è, dai tagli! ma che non freddo venga 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 sbaglio 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 bellissimo mamma buon cullo vabbè bravi sbaglio quelli speciale 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 Ultimo Ciolla! Ultimo Ciolla Seguilo Bruce, seguilo! Dai attaccati! Dai, dai, siamo lì! Salta! Dai, dai, dai! Bravo! Oggi che hai preso il rovescio di Semprini, scusate che è stato quasi intercettato in tuffo. Io lì, meta libera, l'aveva tirato addosso. Comunque Rosa ti ha fatto un bel intercetto in tuffo. Sì. Rosa... Ha fatto un intercetto sul lancio e ho sbagliato dal canto. Poi dopo, sparo lungo. Davide Morri, 33 anni per una settimana, contro Rosa, grosso così, 20 anni. Senza saltare, ho bloccato e il Silvio si è bloccato. Sì, ma infatti si poteva benissimo chiamare e farlo! Che è Rosa? Quella con la finestrina! Rosa è bravo! Un intercetto, ma poi si è di primo pari. Lui non voleva scendere! Lui non voleva scendere! Lui non voleva scendere! Poi abbiamo... Chiudi! 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 Mastroianni Andrea! Meno sei errori! Quanti errori ha fatto oggi? Ma cosa? Quanti errori ho fatto? Migg, quanti errori ho fatto? Due in tre partite, forse! Due errori! Filma, filma! Allora... Due errori! Chi è che... Corri gli errori di Corri! Donna! No, prego! Io mi ricordo di una lama katana monca su Albi! Ah, quella è di Bruno, la pezzuna katana monca! Dai Gino! Fai gioco Gino! Gino! Scusa, i primi quattro spari contro il Gipo! No, no, no! Ah, sì, c'era il matto! No, no, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Tre nella stessa meta! Nella stessa meta! Mi verrà via! No, no, no! E vola tutta la via un po' No, no, no! Mi sa anche Raffallo... Se ti scaldi, faremo se ti morri... Ah, poi... Poi com'è? Com'è che hai chiamato... Anche io ho fatto... Hai chiamato... Hai chiamato... Hai chiamato... Hai chiamato... Hai chiamato la merda! Alla fine... Non era proprio così, eh! Eh, sinceramente, però... Sarebbe a quanto imbarassante scoprire... Sto masticando... Diciamo... Un sudore delle vostre parti più in più! Ahahah! Però questo è pirata... Guarda chi c'è lì! 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 Ragazzone, mi sto congelando! Perché io proteggavo sempre... E sempre... Proteggevo... E rispettavo... Ma dopo la massa che ho fatto... Non rispetto più! Quale è la massa che ho fatto il nazionale? Che l'abbiamo fatto giocare! Abbiamo perso le partite per farlo giocare... E poi smetterilo di giocare! Chi è? Chi che è questo? Ma... Il matto... Il matto... Ma anche... Prima di lì! bravo 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 culo grande culo